di Santa Croce, quali sono i punti controversi di questa ordinanza che vanno sicuramente di marzo? Il secondo punto è quello che deve andare eliminato, cioè dire di vieto di vendita dei prodotti in bottiglie di vetro, lattine e quant'altro. Questa è un'alimentazione per i commercianti che non accettiamo assolutamente, non accettiamo assolutamente e chiediamo l'arrevoca dell'ordinanza e la ridiscussione di tutto il problema. Questo chiediamo, solo questo. Concercazione, noi vogliamo sì l'ordine pubblico, lo pretendiamo anche noi, vogliamo essere anche tutelati perché per far rispettare questa ordinanza, quello che è importante è poi il controllo, perché non possiamo essere minacciati come è successo in questi giorni. Chiediamo questo, di rivedere tutta l'ordinanza, di concertarla assieme per trovare la soluzione al problema, perché il problema esiste, non è vero che ci conneghiamo, ma dobbiamo parlare, dobbiamo discutere, prima che si facciano le ottenanze, non dobbiamo. Farete ricorso a questo lino? Non lo so, dobbiamo discutere insieme all'Associazione, all'Ascomodio di Ragusa e vediamo se ci sarà anche la possibilità di poter fare ricorso al TAR.